Sì, non so cosa fare. Scherzo! Oggi apriremo questo. Se non sapete cos'è, è un tubo delle creatività della Disney. Si chiama così. Di Elsa e Anna. Ora dovremmo aprirlo. E poi c'è questa. Dove si porta con te. Per portarlo con te. Poi adesso si apre qua. Però ora dobbiamo togliere tutto lo scotch. Aspettate un attimo. Adesso vi dico che cosa c'è dentro. Però dovremmo aprirlo anche l'altra parte. Però prima ci sono questi stickers. Questi sono di Anna. Invece questi sono di tutte e due. C'è scritto sister delle sorelle, Elsa e Anna. E poi c'è solo quello di Elsa. Se vi piace si chiama il tubo dei colori della Disney. che l'ha fatta la Disney. Comunque... C'è anche questo grande album. Questo album. Questo album deve si colora. Questo. Ci sono tanti bei fogli. Sono tanti bei fogli. Questo. 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 E molti altri. Ci sono tanti. Grazie a tutti Grazie a tutti Poi c'è questo Questo è tutto Poi c'è Questi pastelli Sono li veloci messi Apriamo 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 C'è questo pastello di colore giallo, poi c'è questo di colore blu, poi c'è questo di colore foccia, e poi c'è questo nero, e poi ci sono quelli là i pennarelli, però sono tre, invece questi erano quattro, questi colori, scusate per prima che mi sono un'ottima incantata, poi questo è blu, questo è giallo, e poi questo è foccia, è bene tutto, è e bene tutto bambini, ciao!